Da quest'altro lato c'è il gruppo di portieri con il loro preparatore, mister Aurelio Gaspari. Tutti i nostri portierini stanno qua con il mister. Non ci siamo capi. Piano! Veloce! Piano! Dai, forza a te! Mi ricordo di posto, piano lui! Dai, forza Francesca! Dai, mia, eh, sempre mia! A te! Bravo, la te! A te! A te, visione ho detto!